Allora, shiatsu, shiatsu è una parola giapponese che è composta di due kanji, shiatsu, premere pressione e dita dito. È anche una disciplina che consiste, una disciplina corporea che consiste nel prendere una persona che da ora in poi chiameremo cliente, consenziente, vestita, stenderla o stenderlo in un futon e applicare pressione con le proprie dita o con le mani, con altri arti, lungo linee immaginarie che sono chiamate meridiani energetici della medicina cinese o giapponese. Io sono Monia, sono un'operatrice shiatsu, una counselor e 15 giorni prima del lockdown a un corso di maffe che ora non c'è però tutte conoscete, mi è stato chiesto cosa vorresti fare, cosa vorresti avere se potessi avere qualsiasi cosa per fare il tuo lavoro e io ho detto vorrei avere una tutina di quelle tecnologiche che si vedono nei film di fantascienza con i sensori che io indosso, che indossano i miei clienti con cui poter fare shiatsu a distanza. 15 giorni dopo è arrivato il lockdown, io tra parentesi ho visto upload, se non so se l'avete visto voi però tutina è un po' e ovviamente io ho smesso di fare shiatsu perché non puoi applicare pressione con le dita su un corpo di una persona durante una pandemia. Ma questo talk non si chiama, oddio ho smesso di fattura dal 3 marzo, ho ricominciato il 15 giugno e come si può fare? Si chiama i regali del lockdown perché in effetti per me, una persona perfezionista, il lockdown ha fornito una serie di regali. Io avrei preparato delle slide, poi ho visto le sue e ho aggiunto i sciorellini alle mie slide. Il primo regalo è sperimenta, che per una perfezionista sperimentare è più o meno una bestemmia perché vuol dire uscire nel mondo con una cosa che di perfetto proprio per definizione non ha nulla. Grazie. Però il lockdown è stata una situazione talmente particolare, talmente assurda, in cui c'erano talmente tante persone che non sapevano cosa fare e in cui io dovevo solo che inventarmi che ho detto vabbè, oh, proviamo. Ho provato, ho fatto degli esperimenti e sono stati una bella esperienza questi esperimenti che mi sono portata ora fuori dal lockdown con un insegnamento, cioè trova un gruppo di persone disposte a accogliere la tua imperfezione e di cui tu sei disposta, io, tu io, ad accogliere l'imperfezione in modo che possiate essere imperfetti insieme, sperimentare le vostre cose in un contesto protetto in cui nessuno giudica la persona ma in cui si accettano e si danno le proprie impressioni in modo che si possa procedere verso questa lunga strada che è la perfezione senza mai raggiungerla però potendo almeno fare delle prove reali. Ora attacco qua. Quindi sperimenta al sicuro, non a caso. Poi, sperimentando a caso ho scoperto che un'altra cosa, un'altra affermazione che una perfezionista può dirsi è questa, funziona anche se non è perfetto, che è diverso da fatto è meglio che perfetto, perché se a me perfezionista mi dite fatto è meglio che perfetto, io ti dico sì, per te, per me non è fatto se non è perfetto, però funziona anche se non è perfetto, sposta l'attenzione verso l'efficacia e non più verso il prodotto. Quindi io posso verificare dopo aver sperimentato che una cosa funziona. La prova pratica del lockdown è stata quando, vi ricordate quel bel periodo in cui si andava fuori sui balconi a cantare l'orgoglio di essere esseri umani e contemporaneamente si tiravano i sassi ai runner e alle persone che andavano in giro con i cani. In quel momento là io ho detto no, aspetta, c'è qualcosa che non torna e mi sono chiesta cosa mi tiene in bolla a me, cosa mi fa funzionare. Quello che a me mi teneva in bolla era la meditazione, ok? Io faccio un'ora di meditazione ogni mattina, però, vabbè, non è che potevo imporre un'ora di meditazione a chiunque. Quindi ho detto proviamo un quarto d'ora di meditazione ogni sera, su Instagram, live, giorni feriali, mi sono messa lì, bella inquadratura, eh? Con il telefonino appoggiato per terra, in bello, che si vedevano avevo i piedi grandi come i piedi degli Hobbit e la testolina piccola piccola, però facevo queste meditazioni tutte le sere, velocemente, non avevo tempo di perfezionare chissà cosa e le persone mi ringraziavano, tornavano ogni sera, c'era il gruppetto, avevano cominciato a conoscersi, facevano commenti tra di loro, era meraviglioso. Io oltre a stare bene perché meritavo tanto, vedevo che le persone meritavano, queste persone stavano bene, facevo il mio lavoro, ho realizzato che stavo facendo una cosa che era bruttina effettivamente, però funzionava. Quindi, beh, funziona anche se non è perfetto, teniamolo in mente questa cosa. Quasi quasi chiamo Cristiano a attaccarmi lo slide anch'io. è che io non l'avevo preparato con Cristiano, quindi non posso chiamarlo. L'altra cosa, una cosa molto da, e le slide dovevo farle il cartoncino anch'io, una cosa molto americana è fail forward, fallisci in avanti, che io un po' l'ho vista come progetta il fallimento, quindi sempre per una perfezionista, se io nel mio ciclo di formazione di un servizio di un prodotto, appunto il ciclo che tende alla perfezione, progetto anche già che ci saranno degli errori, so già che fallirò, so già che fa parte del mio servizio un miglioramento continuo, riesco a sfruttare il fallimento, l'errore, che l'errore per una perfezionista è un fallimento, non è che c'è l'imperfezione così, il pelucco, no no, è proprio sbagliato, è oddio, butto tutto, ma invece se io lo prevedo prima e prevedo che sbaglierò e che da lì potrò partire, allora posso andare avanti, perché qui l'idea è che un perfezionista, molto spesso, una perfezionista, non arrivano a proporre niente, perché non finiscono, perché io nel 2015 sono venuta qui, ho fatto uno spiccio, un talk in cui parlavo di esercizi per il freelance sedentario, ci mettevo dentro quello di cui ho sempre parlato io, che sono i 5 movimenti e dal 2015 ho questa idea di fare le meditazioni sui 5 movimenti, ecco io le ho fatte nel 2020 queste meditazioni, sono 5 anni che preparo le meditazioni sui 5 movimenti, mi c'è voluto una settimana per farle poi, perché è così che funziona come una persona perfezionista, non è mai a posto, finché non gli capita una pandemia e quindi gli dà un po' un hop hop, svegliati fuori, quindi progettiamo il fallimento, ma è successo, durante, allora come operatrice shiatsu normalmente si lavora sempre uno a uno, quando si pensa al lavoro in gruppo si pensa agli esercizi dei meridiani, sono degli esercizi che mettono le sequenze, mettono in evidenza il percorso del meridiano, io sono partita con quello, bomba, ce li sapevo, li ho fatti, ho fatto anche dei video, questa volta sono tabelli, perché mi sono fatta consigliare, mi sono fatta aiutare e poi a un certo punto però ho cominciato a sentire che c'era qualcosa che non andava, che non mi divertivo più così tanto e mi ha aiutata una persona, una mia cliente che mi ha detto, guarda non posso venire a questo incontro online, ma ti voglio dire anche che sto cominciando ad annoiarmi e me l'ha detto in modo molto carino, è stata molto gentile, è stata molto costruttiva e questa cosa mi ha permesso quindi di fallire e, un momento di suspense, di chiedermi ma io perché faccio Shatsu? Cosa voglio comunicare? Cos'è? Qual è il mio perché, il mio why dello Shatsu? questo fallimento mi ha permesso di fermarmi e di chiedermi, voglio continuare così, è questa la strada giusta oppure è un'altra? E a quel punto mi sono resa conto che gli esperimenti, ciò che funzionava, che era efficace e i fallimenti mi potevano insegnare che quello che è per me è lo Shatsu, cioè l'ascoltare il corpo, l'accogliere quello che si sente, le sensazioni che vengono dal corpo, rispettare queste sensazioni e poi dare una forma verbale a queste sensazioni, perché noi sì è vero che siamo corpo, ma noi siamo anche testa, siamo anche mente, abbiamo bisogno di utilizzare le parole per descrivere quello che sentiamo, altrimenti restano delle sensazioni che sono inspiegabili per la mente, quindi quello che io faccio con lo Shatsu è proprio questo, è ascolto, rispetto, accoglienza e poi comunicazione con l'altro. Come potevo fare a rendere questa cosa in gruppo senza toccare le persone? Avevo le meditazioni, che è una cosa che ho sempre fatto, avevo gli esercizi dei meridiani e ho potuto sviluppare quindi una meditazione che è fatta di ascolto del corpo, di movimento poco, ma non di sequenze costruite come prima, di movimento lento, poco e in ascolto e poi di verbalizzazione, domande a cui si possono dare delle risposte e di nuovo ascolto, accoglienza e rispetto di queste risposte. Ed è venuto fuori questo corso di cui parlavo all'inizio, che ci ho messo cinque anni a pensare e poi una settimana a fare perché sapevo già quello che dovevo fare. Ma quello che è soprattutto è venuto fuori è questo ciclo che poi è bello perché io lavoro con i cicli normalmente e sono riuscita a vedere questo ciclo veramente che è un ciclo produttivo anche per una perfezionista, perché ti permette di andare avanti per cose che funzionano, diciamo per prototipi in realtà, perché poi così già nella mia testa ci sono già delle raffinazioni successive e quindi io posso ogni volta sperimentare delle cose, provare che sono funzionanti, prevedere il fallimento e da questo costruire qualcosa di più tornando alle basi e poi ricominciare così il ciclo e uscire, fare sempre servizi e prodotti che funzionano. E niente, il lockdown, la pandemia, tutte le malattie, le tragedie secondo me non sono un dono, mai, però il lockdown a me dei regali li ha fatti e spero che ora qualcosa sia passato anche a voi. Grazie.